ciao a tutti allora qui abbiamo il nostro nuovo e stupendo ospite questo è un gatto persiano purissimo e meraviglioso purissimi in realtà lo sono tutti i gatti lui ha questa razza particolare con queste caratteristiche stupende si chiama rolli a tre anni e non due mi era stato riferito male vaccinato buonissimo sto contattando un bel po di persone che mi stanno comunicando il proprio numero di telefono e per ora sto cercando ancora quindi se siete interessati ad adottarlo fatevi avanti e valuterò la vostra richiesta è meraviglioso e certo è che in un oasi in un gabbione in questo questo orsacchiotto qua è opportuno che non ci stia tanto bello lui sei bello ovvio che la fretta non è amica dei buoni risultati quindi cercherò di trovarli adozione grazie al vostro contributo al più presto però un'adozione ottima come per tutti tutte le altre creature di cui l'oasi si occupa quindi il fatto che ci sia urgenza nel trovargli una collocazione non vuol dire che io lo dia al primo che mi chiama tant'è vero che è da stamattina che sono al telefono ho già contattato una marea di gente e direi che uno o due li ritengo abbastanza adatti per ora comunque ci riaggiorniamo voi intanto guardatelo bello grigio e bianco grigio perla e bianco bello lui bello dove vuoi andare dove vuoi andare bel musoni vabbè ragazzi vi saluto perché oggi è un'altra di quelle giornate molto impegnative ciao ciao